Se non è una partita proibitiva, le somiglia molto. Questa sera, a palla due alle 20.30, la Banca del Casteramo sfiderà non solo una blasonata avversaria, ma in generale uno dei momenti più difficili della sua storia da quando è in a uno, ed anche la cabala. Sì, perché nei sette precedenti i biancorossi non hanno mai espugnato il palaverde di Villorba, la Tana della Benetton Treviso, che anche lei ha avuto un avvio di campionato problematico, una sola vittoria all'esordio contro Avellino, poi quattro sconfitte con Milano, Montegrenaro, Varese in casa e l'ultima a Roma, che avevano gettato in uno sconforto coach Jasmine Repeja. Stavolta però l'impegno settimanale di Euro Cup con Roan è servito a far tornare su il morale con una difficile e preziosa vittoria. Entusiasmo che ora i trevigiani vorranno trasferire nel match di campionato con la Tercas, quintetto che prevede Markovic in regia, la coppia americana Guardia Ala, Ryan Toulson e l'ex Avelino Devin Smith. Sotto il prospetto Motiayunas e l'esperto Nizievic. Dalla panchina escono elementi come Brunner e Bulleri, ma anche il giovane Gentile. Teramo ha un fattore su cui sperare, che il pronostico e dunque le pressioni sono tutte sulla Benetton. Questo dovrebbe dare un briciolo in più di serenità ad una Tercas che per il resto non ha grandi motivi di fiducia, 0-5 come bilancio per iniziare la stagione, altri due giocatori messi da parte in settimana, Hall fuori rosa, Shaw con tratto rescisso e nessuno dei due è stato rimpiazzato. A ciò si aggiungono le condizioni non perfette di Davis e Polonara, che ci saranno, pur avendo saltato alcune sedute di allenamento in settimana. L'unico ex, Rullo, infortunato sia la gaviglia, è in forte dubbio. Rotazioni al minimo dunque per Capobianco, che partirà con Zoroski, Diner, Boscagin, Davis e Fletcher ed in panchina rischia di avere i soli Lulli e Polonara, oltre ad un manipolo di under. Ma pesa Rodocet e terra molosa sulla sua pelle. Concentrazione, limitiamo gli errori gratuiti e tanto cuore da mettere dove non arrivano tecnica e tattica. Queste le indicazioni di Andrea Capobianco, cui in settimana è stata rinnovata la fiducia. Arbitri di Benetton Tercas, Facchini, Filippini e Lanzarini. In bidirettanti, questa sera alle 20.30 la capolista imbattuta Chietti sarà sul campo della Sassari di Rotondo. Torre dei Passeri dopo il blitz di Napoli ospita domani la vicecapolista Scauri. In cidirettanti, in serata alle 20.45 Giulia Nova Lucera. Domenica alle 18, dimensione solare Roseto impegnata a Trani. Derby tra Sulmona e Pescara, mentre Basto ospita la cocapolista Termoli.